L'Egitto è oggi alla prova delle elezioni politiche, le prime dopo il colpo di Stato di Abd al-Fattah al-Sisi. Senza Parlamento da oltre due anni, il Paese inaugura la terza e ultima tappa della transizione democratica dopo l'adozione della nuova Costituzione e le presidenziali vinte dall'ex generale nella primavera dello scorso anno. Al-Sisi ha chiamato tutti gli egiziani ad andare alle urne, sottolineando l'importanza per la democrazia dell'elezione del Parlamento. Le operazioni di voto sono iniziate sabato per gli egiziani residenti all'estero che hanno potuto votare nei consolati. Qui siamo a Dubai. Voglio stabilità nel mio Paese, è la cosa più importante insieme allo sviluppo economico. Basta con le sofferenze, l'Egitto merita il meglio. Il complesso meccanismo delle elezioni prevede il voto oggi e domani per 14 governatorati, mentre per i restanti 13 si voterà a novembre.